Massimo Cagiola, 54 anni, un figlio di 27, vive a Trevi, in provincia di Perugia. Da alcuni anni gioca a tennis in carrozzina a livello agonistico e partecipa a diversi tornei. Tra un mese ci sarà il prossimo. Adesso a luglio ne avremo un altro. È normale che scenderò in campo per vincere. Poi vedremo. Investito da un'auto mentre andava a lavoro in moto nel 2000, Massimo ha subito una grave lesione del midollo spinale. L'inizio, lo devo dire, è stata durissima. Dura perché mi sono ritrovato paralizzato completamente, muovevo solo il braccio sinistro e il collo. Dopodiché la riabilitazione. Mi volevano rimettere in carrozzina per farmi capire che la vita continua. Non ci stavo proprio dentro. Poi però quando ho capito che la vita poteva continuare anche stando seduti, io sono tornato a andare a mille come andavo prima. Io ho voglia di vivere. Questo è basilare. Lo sport ne sono venuto a contatto perché un giorno mi ha fermato un ragazzo che stava in carrozzina e mi ha detto che stai a fare? Vieni a giocare a basket. Dico, ma chi sei? E beh, però è iniziata così. Mai toccato una palla da basket, cioè non sapevo neanche che bisogna fare. Ecco, e invece lì poi ho fatto quattro anni di Serie B. In seguito, partecipando ai corsi di avviamento allo sport proposti dall'Inail agli infortunati sul lavoro, Massimo inizia a giocare a basket in carrozzina e poi arriva anche la passione per il tennis. L'Inail in questo dà una mano perché quando l'ho fatto io erano un paio di anni che mi supportava economicamente, verso il circolo, verso i maestri, ma oltre che l'ausilio, che è la carrozzina da tennis specifica, dà questa opportunità. Non ci sono grandissime differenze perché comunque una persona, normodotato, una persona che giova in carrozzina, quando è nel campo da tennis è un atleta. Loro sono atleti che devono prepararsi per gareggiare, per fare tornei. L'allenamento è duro. Poi con il tempo Massimo riscopre un'altra passione abbandonata dopo l'incidente, la moto. Parliamone! Faccio parte di un gruppo regionale che si chiama V45 Harley Group Free Chapter. In Italia siamo in 35 club che ci incontriamo mensilmente. Bellissime feste dove si mangia e si beve, si sta bene. Incontri gli amici, si fanno fare belle girate in moto e questa è la mia vera passione. Vado in una moto a tre ruote, adattata, porto la carrozzina e mi faccio anche per i viaggi a Budapest, Francia, Austria. Massimo è una persona estroversa e allegra che attraverso lo sport e i suoi interessi ha ritrovato energia e voglia di vivere. Lo sport ti aiuta, prima cosa, nello stare insieme ad altre persone. A superare le paure che uno ha, perché tutti noi abbiamo delle paure, forse un pochino più. Faccio sport a livello di divertimento, di benessere, ma poi quando scendo in campo è guerra.